Filippo Contri, a Terni per girare un film, state girando un film, già questa è una buona notizia no? È una buonissima notizia anche perché siamo arrivati a metà e di questi tempi insomma girare un film non è una cosa così semplice e farlo con questi tempi, farlo con questa cura, insomma è molto bello. Senta, la sua carriera è stata rapidissima. Ho iniziato poco tempo fa. Però già al suo attivo ci sono diverse cose importanti. Vita da Carlo per esempio, poi abbiamo visto di recente su Canale 5 la luce dei tuoi occhi 2, no? Stiamo, stiamo, io parlo sempre in plurale perché siamo io, mia mamma, la mia gente, le persone che mi vogliono bene. Però sto facendo un bel percorso e sono molto contento. Chiaramente la ciliegina sulla torta è stata la conoscenza e l'opportunità di lavorare con Carlo Verdone, invita da Carlo. E poi diciamo che da lì si stanno iniziando a mettere in moto una serie di occasioni e spero di essere sempre in grado. E noi gliela auguriamo ovviamente? Era questo quello che voleva fare? Sogniamo a questo? L'altro giorno che stavo venendo sul set ho chiamato mia madre e ho detto mamma forse ce la stiamo veramente facendo. Se io dovessi fare questa vita per tutta la vita non saprei come sdebitarmi mai perché penso che sia la vita più bella che si possa chiedere. Ecco, qui state girando un film che si intitola Amici per caso, ce ne vuole parlare? Qual è il suo ruolo? Amici per caso è una commedia e i protagonisti saremo io e Filippo Tirabassi, Omero e Pietro. È una storia d'amicizia e questi due ragazzi hanno delle... Questi due ragazzi diciamo insieme costruiranno un legame che li porterà a migliorare sia da una parte che dall'altra. E grazie a questo risolveranno il loro passato che ha diciamo delle mancanze sia da una parte che dall'altra. In principio vediamo il mio personaggio Pietro più carente di educazione, di... diciamo una persona un po' semplice, una persona molto viene dalla borgata, molto ancorata ai vecchi principi, al vecchio gruppo di amici mentre dall'altra parte è una persona molto più moderna, una persona più aperta. E questo incontro però darà la possibilità alle due ragazzi di venirci incontro e creare un grande legame che sarà spero tanto divertente e spero che sarà apprezzato. Senza spoilerare molto, ma è un incontro che cambierà la loro vita? È un incontro che cambierà sicuramente la loro vita, sia da una parte che dall'altra. Grazie a Filippo Contri e a Bucca all'Umo. Grazie. Grazie.